Sempre meno giovani vogliono iscriversi a Medicina, questo almeno, guardando i dati delle pre-iscrizioni ai test d'ammissione. Rispetto allo scorso anno sarebbero quasi mille le mancate iscrizioni all'Università di Padova. I numeri restano comunque alti, sono quasi 2700, gli studenti che l'8 settembre si contenderanno i 378 posti a disposizione. Quindi questo, come si diceva, calo quest'anno, direi che va visto in un'ottica globale di ripensamento di questa professione. Con l'avvicinarsi della data dei test aumentano le polemiche su un metodo di selezione che, detta di molti, non permette di scegliere realmente i più dotati. Io mi auguro che in futuro ci sia anche un miglioramento dei criteri di selezione. Pochi test, poche crocette messe su un foglio, credo che non siano il metodo migliore. In questo momento bisognerà cercare di perfezionarlo. Chi invece è riuscito a vedersi riconosciuta la laurea in Medicina conseguita a Cuba è Clara Armarta Soccarras Sanchez. Una commissione ha giudicato gli esami sostenuti sull'isola caraibica idonei e ha chiesto alla ragazza di integrarli con una tesi. La studentessa cubana è quindi riuscita a laurearsi nell'Università di Galileo, aprendo così un canale culturale formativo tra i due lati dell'Oceano Atlantico. Essere laureato, dire che sono laureata dell'Università di Padova è un grande merito. Non tutti si laureano in un'università così importante come Padova.